Salve a tutti, in questo video vediamo le caratteristiche principali da sapere sulla pop art e dei suoi esponenti principali come Andy Warhol, Keith Haring, Oldeburg, Jim Dine e Roy Lichtestein. La pop art è un movimento artistico nato nel Regno Unito e da qui diffusosi negli Stati Uniti tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Il termine è l'abbreviazione di popular art, ovvero arte popolare. In queste opere infatti gli oggetti sono oggetti di uso quotidiano come ad esempio scatole per zuppe, tappi per bottiglie, ma anche celebrità famose per l'epoca come ad esempio Marilyn Monroe e molte altre. Tutto questo diventa opera d'arte. Le caratteristiche principali della pop art riguardano i colori, colori che sono sgargianti, molto accesi, utilizzano molto i colori primari come ad esempio il giallo, il rosso e il blu. Come vedete infatti sono opere molto colorate che hanno un forte impatto sullo spettatore. Sono opere poi di grandi dimensioni come vedremo dopo e l'altra caratteristica che colpisce è la ripetizione in serie. Difatti il singolo oggetto viene ripetuto più volte. Infatti questi sono gli anni del boom industriale, del consumismo di massa in cui tutti possono acquistare tutto e sono anche gli anni delle pubblicità. Il grafico pubblicitario infatti era un mestiere molto ricercato. L'opera d'arte quindi si ispira proprio alla pubblicità e diventa un prodotto di fabbrica, prodotto in serie, ecco spiegata alla ripetizione, che chiunque può acquistare. Quindi è un prodotto che diventa un prodotto popolare per le masse. Anche i quadri, anche le opere d'arte possono essere acquistate così come si fa con una semplice zuppa al supermercato. Il maggiore esponente di questa corrente d'arte è sicuramente Andy Warhol, che nasce a Pittsburgh negli Stati Uniti nel 1928 e morto nel 1987. Forse avete sentito questa frase che è stata detta proprio da Andy Warhol, ovvero che nel futuro ognuno sarà famoso per almeno 15 minuti. Warhol utilizzava la tecnica della serigrafia, ovvero di stampe ripetute in cui i colori venivano semplicemente cambiati, modificati oppure alterati. Famosissime sono le opere che ritraggono il volto di Marilyn Monroe, un'attrice molto famosa all'epoca. E come lei molte altre celebrità come Che Guevara, Mao Tse Tung, Michael Jackson. Ma celebri erano anche alcuni prodotti di uso quotidiano, come ad esempio le zuppe della Campbell o la Pepsi Cola, per cui ancora una volta vedete che gli oggetti di uso quotidiano diventano opere d'arte. Andy Warhol poi ricordiamo la famosa Factory, ovvero un laboratorio industriale che radunava giovani artisti e qui producevano nuove idee, serigrafie, prodotti, esattamente come se fosse una fabbrica che produceva prodotti in serie. Tra questi giovani artisti influenzati, aiutati, stimolati da Andy Warhol abbiamo Kate Haring, che da semplice artista di strada più volte arrestato per i suoi graffiti che faceva sulle pareti, sui muri o sulle metropolitane di New York, diventa un artista di fama mondiale, riconosciuto appunto per le sue opere che sono caratteristiche e che ritraggono omini super colorati. Questi omini che apparentemente sembrano semplici, quasi disegnati da bambini, in realtà trattano dei temi molto importanti come il razzismo, l'ingiustizia sociale, l'apartheid, il riarmo nucleare, la droga e l'AIDS. E proprio di IDS, Haring morirà a soli 31 anni, nel 1990. E infine abbiamo altri artisti, tra cui Oldeburg, famoso per le sue sculture in gesso, che ritraggono ancora una volta oggetti di uso quotidiano, come hamburger, gelati, torte e vedete anche altri tratti caratteristici della pop art, come le grandi dimensioni. Poi c'è Jim Dine, che dipinge questi cuori enormi, con oggetti quotidiani appesi, tra cui vedete questi vestiti. E infine abbiamo Roy Lichtenstein, che si ispirò invece ai fumetti, un altro prodotto che cominciava a diffondersi enormemente negli anni 60. Però Lichtenstein fa una cosa particolare. Prende i singoli riquadri dei fumetti, che sono piccoli, e li ingigantisce, li fa diventare dei quadri giganti, dove i colori sono sicuramente molto d'impatto. Quindi vediamo un esempio con questi classici puntini rossi, che all'epoca venivano usati nei fumetti per risparmiare sul colore, e che quindi vengono riprodotti anche nei quadri di Lichtenstein. E infine vi segnalo questa immagine. Questo è l'ingresso del Museo Reina Sofia di Madrid, che contiene un'opera molto famosa di Picasso, che è la Guernica. Perché ve ne sto parlando? Perché all'ingresso troverete questa scultura realizzata proprio da Roy Lichtenstein. Grazie a tutti. Grazie a tutti.